amici buonasera da tornilocorriere di investo su di me punto com oggi vedremo come tada come affiliarsi a hotmart e guadagnare molti di voi non sapranno neanche di cosa parliamo neanche cosa sia hotmart per questo motivo andiamo direttamente sul mio sito per vedere un pochino di cosa parliamo abbiamo creato questa pagina di corsi online da qualche giorno dove spieghiamo che la formazione basilare deve transitare per forza da audiocorsi da poter ascoltare in mobilità non solo ma ci sono anche altri motivi che dispongono perfettamente l'acquisizione di dati attraverso l'ascolto poi ci soffermiamo sui nostri percorsi audio sono ben due il primo è in audio libero ascoltabile direttamente su audible previo abbonamento di 9 99 al mese e basta cliccare qui per trasportarvi ci poi invece abbiamo per coloro che non vogliono abbonarsi alla piattaforma la possibilità di poter scaricare i file audio dell'audio corso come cambiare vita in 30 giorni che abbiamo postato appunto su una piattaforma sudamericana che definirei wow ed è hotmart ovviamente vi consiglio di leggere perfettamente cosa dice il proseguo di questo articolo perché qui fa capire in pochi passi come poter guadagnare con l'affiliate marketing come sponsorizzare questo stesso articolo insieme a centinaia di tanti altri attraverso la piattaforma più grande del sud americano hotmart che andiamo a vedere cliccando qui sul voglio scaricare l'audio corso ecco qui che siamo stati catapultati nella famosa piattaforma all in one hotmart il secondo passo dopo il login quello di procedere alla registrazione come affiliato ovviamente con la tua email preferita ahimè potrai scegliere solo tra la lingua spagnola o l'inglese ed è impensabile che tu non parli inglese in questo frangente di mercato sul lato sinistro qui cliccherai su products come io sono un produttore o avrò i miei prodotti questo è il primo di una lunga serie mentre tu che vorrai fare affiliate marketing non lo farei altro che cliccare su affiliate market troverai davvero prodotti in abbondanza di tante tipologie e in tantissime nicchie ovviamente ti consiglio di iniziare dai miei prodotti e poi magari specializzandoti magari potrai affiancarne anche altri attendiamo un attimo che arriviamo nella pagina ecco qui la pagina dell'affiliate market ci sono tutte le categorie tutte le nicchie puoi scegliere velocemente cliccando qui potrai scegliere tra una decina di filtri differenti qui ci sono i prodotti più caldi poi abbiamo i prodotti più scaricati dovrai cliccare sul prodotto prescelto e ne considererai le caratteristiche come percentuale di commissione guadagno per vendita formato valuta lingua eccetera eccetera importanti sono anche quei materiali aggiuntivi come bonus allegati eccetera se tutto ok una volta una volta che sarai dentro prodotto se tutto che procederai col cliccare sul tasto per raffiliarti in questo caso il produttore ha limitato il la sponsorizzazione la l'affiliazione solo ai residenti gli affiliati in brasile e ne troverai tanti di questo genere quindi ti consiglio di iniziare dai prodotti ovviamente in italiano e poi magari specializzati con quelli esteri un'altra cosa che devo dirti è il produttore oltre a settorializzare i propri affiliati potrà anche scegliere una filiazione immediata con un tastierone qui e sarai pronto per pubblicizzare tale prodotto sui tuoi canali oppure puoi chiedere l'affiliazione e sarai messo a disposizione sulla piattaforma ti dico subito che dovrai attendere che il produttore accetti la tua candidatura e ci vorrà un paio di giorni nei quali cercherai ovviamente altri prodotti da sponsorizzare quindi ricapitolando passo 1 login in hotmart passo 2 registrati come affiliato passo 3 vai nella pagina product passo numero 4 seleziona i tuoi prodotti da sponsorizzare iniziando dai miei passo numero 5 pubblicizza i ref link per guadagnare senza fare altro spero davvero di esserti stato utile anche oggi seguimi nel mio canale per ricevere contenuti di valore e aggiornati non mi resta che augurarti work art lavora duro e alla prossima un ciao grandissimo da toni locorriere di investosuidime.com ciao